La locanda di Filippo è a Taranto San Vito in Viale Ionio 355. La genuinità dei nostri piatti in un ambiente raccolto e familiare ti fanno sentire davvero a casa tua. Tante specialità caserecce realizzate con prodotti acquistati giornalmente e preparati al momento. Piatti con pasta fatta in casa. Sapremo prenderti per la gola con gli orecchietti al sugo di goulash, con fave e verdura, cece e gamberi, cozze e fagioli, legumi cotti al caminetto e con tanto altro ancora. Serate speciali con tanta buona musica per provare i piaceri della tavola all'insegna dello stare insieme, condividendo momenti di distrazione, di divertimento e di gioia. Il tutto in un'atmosfera da favola con luci calde, caminetto, libreria. L'inverno non è freddo nel calore della locanda di Filippo. Qualità e prezzi convenientissimi. Siamo aperti di sera il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. La domenica invece a pranzo. Ti aspettiamo per precutazioni 351-8656-589. E naturalmente un sereno Natale ed un felice 2020 a tutti!